Eravamo usciti dal primo provato di Tales of Arris e piacevolmente colpiti. Si perceviva una forte passione assieme alla voglia di spingere più in alto lo storico franchise di JRPG targado Bandai Namco. Adesso, grazie ad una seconda prova, se è più corposa, che ci ha permesso di giocare tutta la fase iniziale fino allo scontro con il primo boss, possiamo dirci incredibilmente entusiasti di quanto visto fino ad ora. Tales of Arris e sembra essere un capitolo con tutte le giuste carte per regalarci un'avventura straordinaria. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube. per non perdervi tutte le prossime novità, ricordandovi di venirci a trovare mensilmente in edicola e quotidianamente sul nostro sito thegamesmachine.it. Tales of Arris è ambientato in un sistema solare comprendente due pianeti molto vicini, Dana e Rena. Per più di 300 anni, il popolo di Rena ha regnato su quello di Dana, dividendo quest'ultimo in diverse regioni governate da potenti signori della guerra. Gli abitanti di Dana sono dunque destinati ai lavori forzati a vita, obbligati a produrre energia astrale tramite una particolare pietra incastonata nelle loro mani. Il lavoro, il sudore e la fatica di ogni persona genera energia astrale, che viene raccolta dalla pietra per poi essere donata ai signori di Rena. Narrativamente ci troviamo proprio in questo punto della storia, con il giovane Alphen che si risveglia in un villaggio senza apparenti ricordi del passato. Egli ha la particolarità di non provare dolore e vive le sue giornate ai lavori forzati indossando una stranissima maschera di ferro, che non riesce a togliere. In una rocambolesca fuga incontra Shion, apparentemente una fuggiasca, ma si rivelerà essere del popolo di Rena. Un nemico tra gli schiavi. Eppure le sue intenzioni sono tutt'altro che violente, anzi, esattamente come Alphen, lei stessa vuole rovesciare questo regime che dura da più di 300 anni. Il valore narrativo di questo capitolo esplode sin da subito e si mostra in tutto il suo splendore. Insomma, dall'ultimo Tales of Berseria, il salto di qualità tecnica, estetica e drammaturgica è palese e impossibile da ignorare. In questo contesto gioca un ruolo più che ottimo il rinnovato sistema grafico Atmospheric Shader, capace di regalare un'estetica ricca e mai pacchiana, assai delicata alla vista e che non appesantisce gli elementi su schermo. Abbiamo trovato delizioso e gustosissimo il sistema di combattimento, che non si discosta molto dai precedenti capitoli, ma la fluidità e l'armonia di esecuzione restituisce una bellissima sensazione pad alla mano. Cominciare una prova di gioco proprio dalle fasi iniziali ci ha permesso di addentrarci in un lungo e corposo tutorial, utile sia a ripassare i comandi di gioco e anche a dare uno sguardo alle novità, e, cosa più importante, capire il perché di alcune particolari abilità di un personaggio. Nella prima prova facevamo riferimento agli attacchi speciali di Alphen, potentissimi nella forza offensiva, ma danneggiavano il personaggio, facendoci perdere preziosi punti vita. Adesso questa abilità ha trovato una risposta che amalgama sinuosamente narrativa e meccanica di gioco. Shion detiene un nucleo primario, oggetti di grande potere nel contesto del gioco, in questo caso il nucleo primario del fuoco, da cui Alphen ne può estrarre una lama infuocata. Lui non percepisce il dolore, motivo per cui può brandire la lama ricevendo danni, ma causandone il doppio ai nemici, ma questa cosa si riverserà sulla stessa salute del personaggio. Da questa particolarità siamo rimasti piacevolmente colpiti, perché sin da subito, almeno fino allo scontro con il primo boss, abbiamo notato un grado di sfida assai interessante. Rasciare gli scenari per arrivare al boss sarà controproducente, almeno qualche quest secondaria sarà necessario portarla a termine per arrivare preparati allo scontro, anche perché tra le tantissime quantità di oggetti che potremo raccogliere, quelli curativi saranno scarsi, dunque un minimo di organizzazione del party sarà necessario. O almeno, dai ricordi di Tales of Berseria, titolo assai accessibile per non dire incredibilmente semplice, per ora abbiamo potuto constatare un equilibrio di gioco e un grado di sfida molto più soddisfacente. In battaglia, poi, potremmo sempre svuicciare tra un personaggio e l'altro, apprendere le nuove arti di combattimento da assegnare a determinati tasti e aumentare così il numero delle combo che potremmo effettuare prima di ricaricare l'abilità, e quando disponibile, richiedere un attacco speciale da parte di un nostro compagno, tutte tecniche e meccaniche note che si sposano ancora una volta perfettamente con il sistema di combattimento. L'ultima nota deliziosa che ci viene da sottolineare è la possibilità di richiamare un momento di dialogo tra i membri del party, sotto forma di comics dinamico, in qualunque momento del gioco, e quando lo stesso ci comunicherà che è disponibile un dialogo opzionale. Per chi ama perdersi in approfondimenti o semplici chiacchiere o magari togliersi un sassolino di curiosità, per esempio Alphen con la maschera di ferro, come fa a mangiare e vedere, ecco, con questa piccola opzione che va a sostituire i classici panegirici da ritrovarsi nel diario di gioco, andremo a scoprire molto altro sia del mondo di gioco che del rapporto amorevole o conflittuale tra tutti i membri del party, una soluzione interessante per spezzare il ritmo tra un combattimento e una quest secondaria. Sconfitto il boss e concluso questo primo atto, non possiamo che ritenerci più che soddisfatti di questa seconda e approfondita prova, capace di fugare ogni dubbio e tenerci pronti per il prossimo mese all'uscita del gioco e di questa nuova ed emozionante avventura.